C'è una sorta di prurito, per cui tutto quello che succede dentro il Vaticano, anche se sono cose o situazioni che fanno parte della gestione ordinaria di una realtà, vengono ritenute, tutte quante vanno lette alla Dan Brown, alla Codice da Vinci. Bisogna necessariamente vedere dentro che c'è qualcosa di losco, qualcosa di non dicibile. In questo caso specifico, i giornali, ma anche questo libro, che io non ho letto, ma sento di dire in giro, parla di un crack del Vaticano. Una cosa molto più semplice, ma non è la prima volta, ci si mette insieme, tra tutti coloro i quali hanno queste responsabilità, assieme al Santo Padre, ad un certo punto si scopre, si prende atto che le spese sono maggiori delle uscite. tenete presente che il Vaticano, la città del Vaticano, o comunque la Santa Sede, non impone tasse, non ha un debito pubblico, per cui come ogni famiglia che si rispetti, come ogni Stato serio, le cose che fa, deve farle con i soldi di cui dispone. Ci si rende conto come le spese nel Vaticano superano le entrate. Allora cosa si fa? C'è chi dice, ah, vuol dire che stiamo andando a sbattere. C'è chi dice, e sono la maggior parte delle persone, sono coloro i quali cercano di guardare con un occhio critico, ma anche oggettivo la situazione, dicono, qua dobbiamo guardarci in faccia e vedere un po', di fare una buona spending review, cioè cercare di vedere dove si può risparmiare. E che ha capito che dove si può risparmiare finora? Ma questo per fortuna non è un compito mio, ma sicuramente, sicuramente, guardate, in una realtà grande come la nostra si può sicuramente risparmiare. Non si deve risparmiare sulle persone, ma sulle strutture, su alcune attività, a mio parere, si può fare. L'ultima domanda di questo tipo, poi andiamo alla vera ragione per cui l'abbiamo invitata oggi. Meno male, perché sono venuto per un altro motivo qua. Eh sì. No, però mi incuriosiva questo fatto. Tra i suoi compiti c'è anche quello di pagare l'Imu. Ma la paga l'Imu la Chiesa, poi, o no? Ma questa storia, no? Questa leggenda che la Chiesa non paga l'Imu, secondo me, ecco, fa parte di quella lettura dal codice da Vinci, no? Di quello che suppone. È vero, l'Imu la paga il mio di Castero. Allora, ti do una bella, faccio fare un bello scoop qui dentro stasera, no? Nel 2018 la Chiesa, soltanto il mio di Castero, ha pagato 9.228.030 centesimi di Imu. 9 milioni. Perché soltanto il mio di Castero significa che poi il resto... No, significa che ci sta anche propaganda fide che paga altri. C'è la Conferenza Episcopale Italiana che paga l'Imu. C'è anche il Vicariato di Roma che paga l'Imu. Cioè, io sfido chiunque, a cominciare anche da chi ha responsabilità amministrative del Comune di Roma, ad andare nell'ufficio amministrativo e a dire «Oh, abbiamo sentito che Galantino, il presidente dell'Apsa, ha detto che qui hanno pagato 9.228 milioni». È vero o non è vero? Se vanno lì, trovano sicuramente le carte e troveranno anche l'ultima, quella di gennaio-luglio, che è di 4.434.000-35.000 euro. Quindi sicuramente il Comune di Roma riceve i soldi. Bisogna dialogare sempre e con tutti? Ha fatto molto discutere, per esempio, un'apertura di dialogo che ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera il Cardinal Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un'apertura, un invito anche al dialogo, per esempio, con il leader della Lega Salvini. Lei che cosa pensa? Quali sono le condizioni per che ci sia un dialogo? Ma mi pare che la tua domanda abbia due tipi di, diciamo, chieda a me due tipi di risposte. La prima che riguarda il dialogo in sé. E qui mi pare che il Papa abbia detto con grande chiarezza che il dialogo non è, ha detto lui, di non mettersi a tavola per dividersi la torta, tornerò su questo, dopo a proposito dell'attualità. E non è nemmeno un ricercare una sintesi a tutti i costi. Il dialogo non appiattisce le posizioni, il dialogo non mi chiede di rinunziare alla mia posizione, mi chiede piuttosto la disponibilità a confrontarmi con quella dell'altro. Perché se c'è veramente poi disponibilità al dialogo, io posso crescere ascoltando l'altro, soprattutto se l'altro porta istanze diverse da quelle che io posso portare. Di sicuro, guardate, al dialogo non si va come si va in guerra, no? Non si può andare come si va in guerra. Ma d'altra parte al dialogo non si va nemmeno per svendere la propria identità, per svendere le proprie attese, per svendere le proprie aspirazioni. Quindi il dialogo è davvero qualcosa di dinamico. Uno che va al dialogo già portando in tasca più o meno il gruzzoletto che dovrà ricavare da questo dialogo, secondo me è un miserabile. Non c'entra niente col dialogo questo. Poi lui mi chiede adesso questo invito al dialogo che il Cardinale Ruini ha fatto nei confronti di Salvini. Premessa, abbiamo tante belle cose a cui pensare nella Chiesa, ma anche tanti problemi a cui dedicarci, per cui quest'altro sport adesso con Ruini o contro Ruini, io personalmente mi sottraggo a questo tipo di sport. Cioè non mi interessa, con tutto il rispetto al Cardinale Ruini, non mi interessa dichiararmi dalla sua parte o contro di lui, perché non serve a nessuno, penso che a nessuno interessi sapere io come la penso su questa questione particolare. Una cosa devo dire sulla scelta di quello che diceva il Papa, bisogna stare attenti perché se dialogo vuol dire... vuol dire... Non voglio dire questo fatto, no? Se iniziare il dialogo vuol dire cominciare a rimettere in piedi i vecchi collateralismi, io con questo tipo di dialogo non voglio avere a che fare, perché sappiamo già dove hanno portato i vecchi collateralismi. Lo sa anche il Cardinale Ruini, che è stato tanti anni nella nostra Presidente della Conferenza Episcopale Italiane, i collateralismi non portano da nessuna parte. Allora, se il dialogo vuol dire mettiamoci, andiamo a trovare il vincitore di turno, quello futuro, quello passato, questo a me personalmente non interessa. Mi interessa invece il dialogo che è veramente una risorsa straordinaria per la vita politica, per la vita familiare, per la vita ecclesiale.